Siamo convinti che oggi serva sempre di più verticalizzare e quindi essere molto specifici anche nei messaggi, anziché esserlo sul piano territoriale, nella distinzione, nella ricerca spasmodica della differenza. Questo ci mette invece nella condizione di essere uguali, capaci di rappresentare tanti luoghi diversi attraverso delle specificità. Il turismo alfermine è uno di questi, abbiamo scoperto una grandissima potenzialità, un grandissimo interesse delle donne a venire a gustare la Toscana nelle sue diverse espressioni e insieme a questo, a tante altre verticali come quello per la famiglia, per il turismo verso il cosiddetto silver turismo, un po' più agé. Ognuna di queste fette di mercato può avere una capacità da parte degli operatori di rivolgersi a loro nel migliore dei modi, cercando di stare nella maniera più distesa, accogliente, capace di andare incontro all'interesse specifico, quello più nascosto che invece dà il senso della sorpresa e dell'abbraccio.